La polizia ha identificato i responsabili. Il bambino di 3 anni vaga da solo e scalzo per strada, denunciata alla madre. Aperto il parcheggio tra via Tirso e via Liliana Rossi, lungamente atteso dai cittadini. Piazza San Domenico ha firmato il patto di collaborazione tra comitato e comune per la riqualificazione. Una buona serata dalla nostra redazione. Bentrovati a nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Una tentata rapina da parte di una baby gang. Un bambino di 3 anni che vagava da solo per la città. Sono due tra le principali notizie di cronaca del giorno a Prato, cui si aggiunge un incidente causato dall'alcol a Montemurlo. Ascoltiamo. La polizia ha denunciato quattro giovani ritenuti responsabili della rapina e danni di un cittadino cinese tentata ieri sera, attorno alle 19, in via Filicaia. Il passante, 37 anni, è stato aggredito dalla baby gang che lo ha accerchiato e ha tentato di strappargli di dosso il marsupio, picchiandolo con pugni e spintoni. Il cinese è riuscito a liberarsi dalla presa e a scappare a piedi chiamando la polizia che ha attivato le ricerche. Le volanti hanno rintracciato in zona due giovani che corrispondevano alle descrizioni della vittima. Si tratta di un ventenne ed un diciassettenne, entrambi pakistani, che sono stati denunciati assieme ad altri due giovani stranieri identificati in un secondo momento. Un bambino di 3 anni che vagava sul marciapiede da solo, scalzo e senza alcuna vigilanza da parte di adulti, è stato messo in salvo grazie ad alcuni passanti che lo hanno avvicinato e hanno chiamato la polizia. È accaduto ieri pomeriggio nella zona est della città. Gli agenti hanno preso in custodia il piccolo e sono riusciti a risalire all'abitazione da cui si era allontanato, sfuggendo alla vigilanza dei familiari. Il bambino è stato quindi affidato alla madre di nazionalità marocchina, che è stata invitata a vigilare con maggiore attenzione e che sarà denunciata. Ha centrato due auto in sosta lungo la carreggiata ed è fuggita, e quanto è successo sabato scorso attorno alle 19 in via La Marmora a Montemurlo. La polizia municipale, grazie ad alcune testimonianze e alle telecamere di videosorveglianza, è riuscita a risalire al numero di targa dell'auto. Dopo circa mezz'ora, forse pentita del proprio gesto, la conducente, una donna italiana, è tornata sul luogo dell'incidente, dove ad attenderla ha trovato la polizia municipale, che l'ha sottoposta ad alcol test, da cui è emerso che la donna guidava con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito. Per lei è dunque scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza, l'auto è stata sequestrata e la patente ritirata. È stato un malore a causare la morte di un uomo di 82 anni, che viveva da solo in via Ferraris. A dare l'allarme sono stati i condomini del palazzo, insospettiti dal cattivo odore proveniente dall'abitazione dell'anziano. È successo nel tardo pomeriggio di oggi. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e vigili del fuoco, che hanno forzato la porta dell'appartamento, all'interno del quale hanno rinvenuto il cadavere dell'uomo. Il medico legale ha constatato le cause naturali del decesso, che risale da alcuni giorni fa. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Municipale per i rilievi del caso. La salma è stata liberata. Aperto stamani il parcheggio tra via Tirso e via Liliana Rossi, lungamente atteso dai cittadini di Chiesa Nuova. Dopo 12 anni di attesa da parte dei residenti e i molteplici sit-in organizzati nel tempo dal Comitato via Tirso e Tagliamento, è stato aperto stamani il parcheggio all'angolo tra via Tirso e via Liliana Rossi. Rispetto al primo progetto da 65 posti, il parcheggio, al servizio di un'area popolosa, in cui insistono anche una scuola, una chiesa ed una farmacia, è stato rivisto in base agli standard del nuovo piano operativo che prevedono maggiori alberature. L'area di sosta, pubblica e gratuita, mette dunque a disposizione un numero minore di posti, 44, oltre a due stalli per disabili e sette per le moto. I lavori hanno riguardato anche l'illuminazione e la fognatura. Il parcheggio ha ingresso e uscita su via Tirso e un ulteriore accesso da via Liliana Rossi. A realizzare l'intervento, nell'ambito di una perequazione urbanistica con il Comune, è stato un privato. Ovviamente l'intervento è stato fatto dal privato e ci ha messo i suoi tempi, ci ha messo il tempo che ci ha messo e soprattutto poi c'è stato un problema idraulico di scarico delle acque, ora io tecnicamente non ve la so spiegare preciso, però diciamo che Publiacqua non riusciva a risolvere, nel senso ha dovuto lavorarci sopra per risolvere. È stata lunga, ci sono voluti circa 4 anni, ma quello che ci interessa alla fine è il risultato. Io capisco i cittadini e hanno ragione, vorrebbero tutto e subito, ma con la pubblica amministrazione non c'è da avere furia. Però con testardaggine e con convinzione si arriva anche a realizzare interventi come questi che erano richiesti e che da oggi, da tra pochi minuti, possono essere fruiti a questo e a questa zona. Questo parcheggio l'abbiamo voluto ormai da oltre dieci anni, ci siamo battuti, è stata veramente una cosa estenuante e a questo punto, che dire, sicuramente l'abbiamo sempre ritenuto un'opera necessaria e perciò siamo contenti che finalmente sia a disposizione dei cittadini. Certo che se dobbiamo pensare che l'amministrazione ogni volta che c'è un bisogno lo soddisfa con questi tempi, veramente ci cascano le braccia. Oggi in Palazzo Comunale la firma del patto di collaborazione tra Comune, Associazioni di Categoria e Comitato San Domenico per iniziative di riqualificazione dell'omonima piazza. Il Comitato ribadisce, l'obiettivo finale deve essere la pedonalizzazione. Comune di Prato, Associazioni di Categoria e Comitato San Domenico hanno firmato il patto di collaborazione per la riqualificazione dell'omonima piazza del centro storico. Arriva così a compimento un percorso durato circa due anni che ha visto in prima linea un gruppo di residenti e commercianti chiedere iniziative culturali, servizi ed eventi per rendere più attrattiva la piazza con le vie circostanti. Il patto unisce proprio la volontà di collaborare attraverso proposte e idee. È un percorso che è iniziato insieme al Comitato San Domenico che stamattina si sancisce con un patto di collaborazione per una progettazione futura dove mette all'interno tutti gli stakeholder quindi anche le associazioni di categoria, anche Prato Cultura con gli immobili della Diocesi, della Curia e con la Fondazione Santa Rita. Ovviamente la pedonalizzazione è in primis nel nostro punto di vista del cambiamento della piazza, deve essere trovata, individuata un'area che permetta anche di avere un percorso di passaggio dalla stessa piazza e avere un parcheggio più vicino possibile per poter usufruire il passaggio della via della piazza, si spera pedonalizzata, e appunto l'ingresso da via Muzzi o da via Guasti come era tanti tanti anni fa. In attesa di un progetto di pedonalizzazione strutturale, intanto l'amministrazione ha accolto l'iniziativa proposta di rendere la piazza inaccessibile ai veicoli in alcune domeniche. Il 12 maggio torna, dopo l'esperimento di marzo, l'evento Mani in piazza. Da Prato al Quirinale perché la Costituzione diventi sempre più patrimonio di tutti. Oggi pomeriggio è stata consegnata nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Costituzione speciale tradotta a Prato per la prima volta in forma integrale utilizzando il linguaggio simbolico codificato della comunicazione aumentativa alternativa. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato una delegazione della Fondazione Cassa di Risparmio guidata dalla Presidente Diana Toccafondi e dell'Istituto Gandhi. Non potevano mancare i ragazzi della scuola. Con la delegazione pratese anche Adriana Cogode, prefetto emerito di Prato, che ha condiviso e appoggiato l'iniziativa. Nel corso dell'incontro i ragazzi hanno letto gli articoli della Costituzione che fanno riferimento all'accessibilità, alla condivisione e alla comprensione. Presentati i primi sei nomi dei candidati della lista di Fratelli d'Italia alle prossime amministrative, puntiamo ad essere la lista più votata, ha detto la deputata La Porta. Una lista competitiva che ha l'ambizione di voler essere la prima lista in città per dare un futuro migliore a Prato a sostegno di Gianni Cenni, sindaco. Alle idee chiare la deputata pratese di Fratelli d'Italia, Chiara La Porta, che nel presentare i primi nomi della lista dei candidati al Consiglio Comunale del Partito in vista delle amministrative pratesi ha definito l'obiettivo. Dei primi sei nomi svelati fanno parte i consiglieri comunali uscenti Tommaso Cocci e Patrizio Vattoni, militanti storici come Rocco Rizzo e Leonora Cioni, oltre al commerciante Gianluca Mengolello e Patrizia Annunziati, segretaria del circolo Cives di Prato, che per il partito si occupa soprattutto di sociale. Abbiamo cercato di prendere competenze sia dalla società civile che dal mondo delle persone che seguono da anni la politica. Vogliamo dare risposte concrete ai cittadini dopo averli ascoltati e confermare loro massima disponibilità al dialogo. La lista sostiene il candidato sindaco Gianni Cenni e fa propri temi del superamento del porta a porta, della sburocratizzazione, nel rilancio del commercio in centro e nelle frazioni della sicurezza. Ho ritenuto che il mio percorso non fosse finito all'interno delle istituzioni del Comune di Prato. abbiamo bisogno di portare questa volta a un cambiamento concreto che si riporta alle battaglie che abbiamo fatto in questi anni, le battaglie che abbiamo fatto per il centro storico, per il commercio, che abbiamo fatto per la sicurezza e sulla legalità, che abbiamo fatto sul trasporto pubblico locale e sulla multi-utility. Il centro-destra ha un'idea ben precisa di città e Fratelli Italia è pronta a guidarla. Rifiuti al Palazzetto dello Sport di Maliseti, ieri la segnalazione del consigliere comunale della Lega Claudio Stanazel, oggi la risposta del Comune. Il 9 aprile la giunta comunale ha approvato, dopo lo stanziamento nell'ultima variazione di bilancio, il progetto che prevede lo spostamento dei rifiuti, presenti a seguito dell'alluvione del 2 novembre, verso un nuovo sito che si trova in un'area di proprietà del Comune, tra via Molinuzzo, via Paronese e via Dei Fossi. E' questa la replica del Comune alla denuncia di Stanazel, che va sottolineato come da mesi siano stati ammassati al Palazzetto dello Sport i rifiuti raccolti dall'alluvione di novembre. Il materiale sarà stoccato nel nuovo sito temporaneamente, in attesa di un'analisi del terreno, per procedere in secondo momento allo smaltimento a discarica. A breve ci sarà la gara per l'affidamento dei lavori di questo spostamento, che aveva un costo di 620 mila euro, ha spiegato il Comune. Si inaugura questa sera, aduse il comitato elettorale di Ripartiamo Cantagallo. Nell'intervista ascoltiamo alcune indicazioni del programma del candidato sindaco Lorenzo Santi. La cittadinanza sta chiedendo vicinanza, ha bisogno di un contatto diretto con l'amministrazione. Nella nostra campagna elettorale abbiamo ideato un assessorato alle frazioni, dove ci sarà un assessore, una figura apposita, che collaborerà costantemente con i cittadini per essere a contatto con le realtà e farsi promotore con l'amministrazione per risolvere i problemi il più in fretta possibile. Tra i problemi principali c'è quello dei collegamenti e della viabilità a 325, ma non solo. Come intervenire? 325 è tema vasto, che non riguarda ovviamente solo il Comune di Cantagallo, ma riguarda i comuni di tutta la valle, quindi anche Vernio e Vaiano. Da parte nostra c'è la disponibilità innanzitutto di potenziare la viabilità alternativa, perché abbiamo visto in quei 40 giorni scarsi, quel mese abbondante, che la 325 è stata chiusa, abbiamo dovuto fare il giro da Gamberame e riscendere da Villafiorita, da Figline, e quindi è una viabilità alternativa solo alle macchine, però va potenziata in modo, in caso di bisogno, si possa intervenire anche con i mezzi pesanti. E poi si è tornati anche a parlare del bypass della 325. Nel nostro programma elettorale ci sarà, è un progetto enorme, è un progetto vastissimo, che non riguarda anche questo solo il Comune di Cantagallo, però da parte nostra c'è la volontà, è in corso uno studio di fattibilità, di collegare l'uscita di Barberino con l'uscita a Prato-Ovest, in modo da fare una bretella che colleghi le due autostrade, quindi l'autostrada del Sole e la Firenze-Mare, che risolverebbe i flussi della Val Bisenzio, ovviamente dando di fatto una viabilità alternativa completa, e anche i flussi di macchine che provengono dal nord Italia in direzione costa. Segnalare rifiuti abbandonati, prenotare il ritiro di ingombranti o pagare l'Atari, sono alcune delle azioni che si possono fare con Alia App, l'app di Alia. Si chiama Alia App ed è l'app di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi iOS e Android, che permette un rapporto diretto con i cittadini e offre numerose funzionalità attive per tutti gli utenti dei 58 comuni gestiti da Alia. A partire dalla possibilità di effettuare segnalazioni di rifiuti abbandonati, tramite Alia App è anche possibile prenotare un ritiro ingombranti al proprio domicilio, consultare i calendari di raccolta nelle aree in cui attivo il servizio porta a porta, scoprire il punto di raccolta più vicino in cui consegnare rifiuti, segnalare un mancato ritiro, svuotamento, e grazie al dove lo butto, inquadrando il codice a bari di un qualunque oggetto, essere informati su come differenziarlo correttamente. Con Alia App inoltre è sempre possibile iscriversi alla tariffa, consultare la propria posizione, pagare l'Atari, visualizzare le bollette e gli svuotamenti, cessare l'utenza e in futuro richiedere rateizzazione di pagamento. Il consiglio più semplice è quello di scaricarla sia su Android che su Apple, attivarla, questo è possibile sia per coloro che sono degli utenti tari, sia anche per coloro che non sono utenti tari, quindi anche i coloro che passano in città, i turisti, i city user, o anche i familiari di coloro che pagano l'Atari. Questi servizi sono molto semplici, immediati, e soprattutto ad esempio sugli abbandoni noi diamo un ritorno, un feedback all'utente del fatto che l'intervento sia stato fatto attraverso una foto che dà testimonianza del nostro intervento. Il circolo MCL di Caffaggio organizza un incontro dibattito rivolto alle famiglie, in particolare ai giovani, sui profondi cambiamenti in corso nella nostra società, il progressivo allontanamento alla fede. L'argomento affrontato nel saggio è la croce rinnegata, messaggio cristiano e pedagogia nella società contemporanea di Maria Cristina Mengozi. L'appuntamento è per domani alle ore 17 nella sede del circolo. I maggiori esperti nazionali di oncologia riuniti a Prato per fare il punto su diagnosi e cure per il tumore della mammella. Stabilire lo stato dell'arte della ricerca clinica e traslazionale nel tumore al seno e anticipare le sfide future tra innovazioni e opportunità sono gli obiettivi del convegno Prato-Brest che si è svolto nella nostra città. Organizzato dall'oncologia medica dell'ospedale Santo Stefano e promosso da Accademia Nazionale di Medicina con la collaborazione della Fondazione Sandro Pitigliani che da anni sostiene le attività di ricerca del gruppo oncologico pratese. Ogni anno in Italia circa 55.900 persone si ammalano di tumore alla mammella. La neoplasia più frequente nella donna è la prima causa di morte con 15.500 decessi solo nel 2022. Anche se aumenta l'incidenza dovuta al fatto che sempre più donne accedono ai programmi di screening e è stata aumentata anche la fascia di età soggetta a screening aumentano anche le opzioni terapeutiche quindi l'aumento dell'incidenza è associato a una riduzione della mortalità e quindi questa è la cosa importante. In apertura di Prato-Brest è stato ricordato il dottor Angelo Di Leo medico e scienziato di fama mondiale che ha posto le basi dell'oncologia pratese. Durante il convegno, diretto dalla dottoressa Laura Biganzoli direttrice dell'oncologia del Santo Stefano e dal dottor Luca Malorni, direttore del laboratorio traslazionale di Prato 40 esperti provenienti da tutta Italia discutono i controversi aspetti del trattamento sistemico nella malattia in stadio precoce i bisogni delle popolazioni speciali, le evidenze che riguardano l'uso degli anticorpi coniugati e dell'immunoterapia fino alle nuove prospettive della genomica tumorale e del trattamento dei tumori endocrinoresistenti. La ricerca significa anche nuove opzioni terapeutiche per i pazienti e cercare di avere sempre un approccio più personalizzato per i nostri pazienti e grazie all'unità di ricerca traslazionale siamo all'avanguardia in questo campo pur essendo un ospedale generale. Per il tumore al seno siamo un'eccellenza, non perché lo dico io, ma lo dice la regione toscana e abbiamo anche molti pazienti che vengono da fuori proprio perché ormai si è fatto un nome nel mondo dell'oncologia il centro di ricerca Sandopitigliani è molto conosciuto e molto votato. Si intitola 10 anni sempre insieme l'evento benefico organizzato per domani sabato 20 aprile nella chiesa di San Domenico in memoria di Samuele Martini, giovane pallanotista pratese scomparso nel 2014 a soli 25 anni. L'appuntamento, fortemente voluto da familiari e amici per celebrare il ricordo del ragazzo prevede alle 18 la Santa Messa preseduta dal parroco della Resurrezione Donaldo Mauri e seguita alle 19.30 da un apericena organizzato dalla Fondazione Opera Santa Rita. Il ricavato della serata sarà devoluto proprio al Santa Rita. Nel corso dell'evento saranno ripercorsi questi primi 10 anni facendo un resoconto di quanto messo in campo in memoria dell'atleta. Donazioni, eventi pubblici, l'intitolazione della piscina di Via Roma avvenuta nel 2015 e anche un libro pubblicato nel 2019 che raccoglie aneddoti, pensieri e ricordi di circa 70 persone che hanno conosciuto e vissuto da vicino Samuele. Tutti sono invitati a partecipare. Alla Biblioteca Lazzerini la presentazione del libro La favola di Amaranta. Vediamo i particolari nel servizio di Maddalena Ciambellotti. Nella sala conferenze della Biblioteca Lazzerini di Prato è stata presentata la favola di Amaranta di Monica Tucci presidente dell'omonima casa editrice. All'incontro moderato dal direttore di TV Prato Giancarlo Gisonni in rappresentanza dell'amministrazione comunale ha portato i suoi saluti l'assessore Flora Leoni. I professori Alessandro Attucci e Gelardo Gelardi assieme all'insegnante Nicoletta Giorgi hanno sottolineato la valenza del testo che, illustrato con immagini ad acquerello della talentuosa Sara Pecchioli parla al cuore di grandi e piccini aprendo a riflessioni su temi importanti ed attualissimi. Appartiene credo a quel genere bello ma non semplice, non facile delle favole che sono per così dire in prima istanza rivolte all'infanzia e adolescenza ma con uno sguardo atteso al mondo adulto e questo credo valga sia per la costruzione per la macchina narrativa del libro e sia per i temi che esso presenta. Le illustrazioni sono fatte a mano non ho usato la computer grafica proprio perché volevo dargli questo tono di storia diciamo di un tempo. Una favola piena di magia che narra l'amore di una bambina per il mondo della natura dei suoi sogni che si concretizzeranno da adulta in un percorso professionale nell'impegno a difenderla. La favola di Amaranta è una storia che parla di amicizia solidarietà, affetti familiari amore per il creato e insegna alle giovani generazioni alle future generazioni ad aver cura del pianeta. Un gatto con un tubo di plastica stretto al collo è stato salvato dalla LAV è accaduto questa mattina. L'ambulanza veterinaria dell'associazione animalista è intervenuta nei pressi delle cascine di tavola per il salvataggio dell'animale poi chiamato Prato. Secondo la LAV il tubo probabilmente era stato deliberatamente posto da qualcuno senza cuore. La sua sofferenza era evidente ma la sua determinazione a sopravvivere era ancora più forte. Con l'aiuto di gabbie trappole azionate dal remoto e telecamere appositamente installate dai volontari i volontari della LAV sono riusciti ad individuare e salvare il gatto. Subito dopo il salvataggio l'animale è stato portato alla clinica veterinaria Galilei la LAV condanna fermamente questo gesto di crudeltà e insensibilità nei confronti degli animali. Ed è il momento dell'agenda vediamo insieme gli appuntamenti in programma domani a Prato e dintorni. Sabato 20 aprile dalle ore 10.30 Biblioteca Casale Antonio Bruni presenta Buona Appe Libro libri, cucina e ricette divertenti letture animate e laboratori insieme a personaggi curiosi per abituare i più piccoli ad un'alimentazione sana corretta e creativa. All'ora 15 al Museo dell'Opera del Duomo di Prato visita guidata dentro il Duomo che custodisce un passaggio nascosto che permette di ammirare un'antica facciata oggi coperta da quella attuale. Centro Pecci School Cinema si propone come un'esperienza di apprendimento coinvolgente e stimolante aperta a tutti gli appassionati di cinema. Il tema di questo sabato 20 aprile è il cinema moderno l'incontro alle ore 16 presso Centro Pecci. Alle ore 17 al Teatro Fabbricone Streghe spettacolo con Consuelo Ghiretti e Francesca Ghirenti per bambini dei 3 ai 9 anni. In conclusione alle ore 20 e 30 presso Villa del Molinaccio Vaiano notte bianca per piccoli lettori delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria nell'ambito del Festival Un Prato di Libri. E con l'agenda è tutto ma restate con noi vi lasciamo adesso alle previsioni del tempo come sempre a cura della Consorzio LAM restate poi con noi per le anticipazioni dei programmi della serata. L'informazione di TV Prato torna domani alle 13.45 con il Tg del giorno. Grazie per averci seguito e arrivederci. Stop! Purtroppo questo non succede solo nei film ma se vuoi stare tranquillo un modo c'è affidati a veri professionisti. Prato all'armi una sicurezza da Oscar. Grazie per aver guardato il video. Abbandonati al piacere della pasticceria Vella Cafè. Buona serata dalla sala meto del Consorzio LAM per domani sabato è prevista ancora una bassa pressione che tenderà a isolarsi sul terreno centro-settentrionale Mar Ligure determinando condizioni di alta variabilità sulla nostra regione già la mattino possibili dei rovesci sulle zone centro-settentrionali soprattutto tra le province di Pistoia Prato Firenze e anche Arezzo nel corso del pomeriggio ancora precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale soprattutto sulle zone appenniniche e sulla Toscana centro-meridionale temperature per domani che tenderanno a calare testandosi attorno ai 16-17 gradi nei valori massimi la giornata di domenica ancora caratterizzata dalla variabilità ma maggiore stabilità atmosferica pertanto le precipitazioni sono soprattutto previste nelle zone dell'interno nel corso del mattino con schiarite lungo la costa nel corso invece del pomeriggio precipitazioni che al momento sembrano essere attese soprattutto sulle zone di nord-ovest qualche come detto rovescio breve acquazzone spazio ancora per schiarite sulla fascia costiera temperature per domenica che tornano a salire attestandosi ai 17-18 localmente 19 gradi con questo è tutto grazie dell'attenzione a salire a salire a salire a salire a salire Grazie a tutti.